Ok, Luna, ha interagito col telecomando e... Niente, ha cambiato colore? So cosa abbia fatto, però va bene. Ok, continuiamo, scusate. Mary J ASMR Ciao ragazzi Buonasera a tutti Come state? Spero tutto bene Oggi ci rilassiamo con un po' di manzano e ton click Spero contatto Spero, tutto bene Spero 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 dico 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 ok ok blablablabla trullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull c'è l'ombra di luna che c'era davanti al proiettore non so se si hai visto l'ombra non so se si 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 quando si ha un gatto è così non sempre posso registrare quando lei dorme dovrebbe essere tutto a posto adesso derek 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 macchina Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao.